Pronto? Oh, mamma di Bette! O sei D'aria! Oh, mamma di D'aria! C'è cosa sentite? C'è un tasto? Eh... Insumis! Alla di superiù due dìs che mi fa smalumpito e non arrivi a Movilù. Sette mani estade o sei sbrissate per l'ora di tocus di veri di un vas fatto colà di quel... di quel baso al che vi fa chiese con me. Di quel baso al? Scusa, ma di cui feveli stu? Di vigli! An combina di ducchi colori. Ma... Invei bene stessi. Scolta... Uè... Ho avuto tanto gusto di fare un viaggio per scoprire altre tradizioni nuove come quando sei lì da Torpa al mondo a conoscere lì Susanne dal team di Pasqua o delle fieste delle mamme. Ma... proprio non arrivi. O sei ciò e te... Non arrivi proprio a muovimi. Mi dispiace! Poi di fare alcuni per aiutarti? Sì... Sì... Tu potresti il salto a Torpa al mondo e mettiti in collegamenti in videoclamare con me. Ci pensi? C'è via l'idea! Oh... Daria! Ho svolito al momento! Mandi Daria! Mamma... An... 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 Te for... Te... Te... Mamma Mamma La insieme a fare un bel viaggio con Bete Vignite con me Oh! Mandi Bete Sesto già arrivate C'è svelte Ascolte Avvignaranno a viaggiare con noi Anche i frus che non stiano in casa Al sarà un viaggio super Tu vi odierai C'è meraviglia frus Oh! Dissendogli insieme La formula magica che Nus portarà di una banda A che altre dal marimont Slargli i bracci Benon benon Come Alice Di un avion Fa un viaggio Iè magia Viarci voi con fantasia Se come Tu s'es ben pronto Fa un giro A torpa al mondo Tu l'ha sesto con me? Frus Per festeggiare l'inizio del primavera Posso esvolare fin In India In India frus Si celebra il famoso Holy festival Un'antica tradizione Indulica In siors Puars Frus Giovans Anzians Oms E femminis A van a torpe strade Sparco vierges Il corp Di duchi colors E qualche volta Anche A tiri un polvar colorato A qualsiasi persona Che ur passe d'onghi Oh Oh La serie prime Indians A imping un gran fogaron E abrusi dentro Il spirit Dal mal Holica Se io voli in la in Olanda frus Ho vinto tornati La formula magica Slargli i bracci Benò Benò Come Alice Di un avion Fa un viaggio E magia Viarci voi Con fantasia Se come tu sei ben pronto Fass un giro A torpe al mondo Uuuuuh Uuuuuh Frus O sin rivas In Olanda In Olanda In Olanda I tulipanza Sono il simbolo De primavera Olandese E anche I grandi protagonisti Dal Talp Festival Di Amsterdam A chi Ogni anno In Avril I paesi Sempli Di questi Rosi Maraviosi Uuuuuh Uuuuuh Hohohoho E come ho frus Se tornino a dire la formula magica Si chiamare in court In Argentina Slargli i bracci Benò Benò Come Alice Di un avion Fa un viaggio E magia Viarci voi Con fantasia Se come tu sei ben pronto Fa un giro A torpa al mondo Uuuuuh Uuuuuh Mande Daria In un marilamp O sin svolasfi In Argentina Hahahaha 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 Ma c'è fase Tutta tabarossate La io Hahahaha Non sta a ridi Intanto Intanto che li di o altri La natura Torna a nassi Le rosi Torna a sflori Le giornate Si slunghi E Torna a fa Pluicliput Parvie D'arrivare Primavera Acchi O sin in autun Parcerà il nostro viaggio Torna a dire La formula magica Parrivare Fin In Giappone Slarglie i bracci Benom Benom Come Alice Di un avion Fa un viaggio E magia Viarci voi Con fantasia Se come Tu sei ben pronto Fa un giro A torpa al mondo Uuuuuh Fruz D'aria Ho sin rivasi Fin In Giappone Quando che arriva la primavera In Giappone Si festeggia La Nami Una tradizione milenaria Che i giapponesi Celebri Organizzando Giringhe I suoi prassi Come cofasino Dall'unis di Pasche Propriet così Oh Chialait I chiari esars Oh C'è marabè La rose Eclamade Sakura In Giappone Gie considerade Il simbol Di rinascite E di bielecce Volezo fami domandis su altris argomens covestante curiosità Ho voleso fa un edeliche Mandait a Maman Caiut Sportelfurlan.eu Oppor mandait un whatsapp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2 2 Volehara idut In trasmission Facendo un gioco Vediamo se ho conosciuto queste bandiere Quale è tra queste? La bandiere dell'Olanda La bandiere dell'Olanda è la numero 1 Vediamo se ho conosciuto Ma il gioco diventa più difficile Provate a dire i nonni dei stati che le tre bandiere sono presenti Olande Germanie e Argentine Olande Li sveviso induvinati sdutis? No? E allora tornin a dire Olande Germanie e Argentine Due Due Olingvie Li di Martina In fattorie Met une barette E chioi une borsette Come frusse tache Tante musiche Con sacche e buracche Mandi frusse Mandi a tutti le bande di Martina E benvenuti a sacche e buracche Voi hai voglia di presentaos Il mio mio amico Ralf Ralf Hai un can Veramente grande La mia più grande passione Sono i cani Ma un'altra mia grande passione Sono i filani E una Ha cominciato Così Hai bai Domenica Ma Io di C'è molto lasciante La nostra mia Nicole Provine ad acclamare Nicole Ciao Mandi frusse Ho soo in tu Questo magico E come ho spazzo in te Una filaine Che è alt di magico A e bai A e bai Domenica Si e bia e compagnia Tricul tracul cemmeracul a e bai e bu A e bai e bu A e bai e nu che sta e Die bie e compagnia Si e bai e bu 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 A e bai e bu A e bai e bu Si e bai e compagnia Tricul tracul cemmeracul a e bai e bu Tri cul tracul cemmeracul a e bai e bu A e bai, non c'è stai, tie e bie e compagnie Simmeracul, tricul, tracul, a e bai e bu Simmeracul, tricul, tracul, a e bai e bu Mandi frus! Bravissime Nicole, ogni volta che ti ascolti mi piar via e come vi ho detto, la cala e lati nostri amici di J2Bet J2Bet è il mio amico, è anche il tuo? A e bai, non c'è stai, tie e bie e compagnie A e bai, non c'è stai, tie e bie e compagnie Simmeracul, tricul, tracul, a e bai e bu A e bai, non c'è, tie e bie e compagnie Tricul, tracul, c'è miracul, a e bai e bu A e bai, domescai, zie, pie, compagnie, tri, cu, tra, cu, c'è, mera, cu, la e bai, buf! Bravi DJ2Bet, vi sovi tutti, arrivi al coro e chianta insieme. Frus, anche per voi, sa che buracca è finita. Una bussata di Martina, alla prossima, mandi! Frutti, come? All'altra, che ghi-ti! Se so pronti per divertirsi con i fumetti e le storie di stelle, bolpi, coccali, ors, ghi-ti, aquile e rughe, Con mame e papà, o podes la sul sit bilengal www.giti.it Us pieto è un mondo fatto di cartons animati, videos, giux interattivi e letturi. Corse dai kiamps Corse dai kiamps C'è bulors! C'è bulors! Cambia! C'è schiaffo iaci, non si rive a respirare! Vero, eh? Per fortuna che non coccali, o stiamo al mare con l'aria fresca! Boh, ho deciso! Di comandante, o facerai anche io il coccale! Ma, Niti, tu tu sei un ricci? Non tu puoi di scambiare qua anche tu a svoa, eh? C'è di sé visto? Ma, c'è molto a sto fatto! Vigli, c'è perché noi essi pòdù della torpa al mondo con un bette? Ma! Sa sto c'è cofasino? Può di insegnarsi in quale puest che ovvolaressi in là. Magari, l'ankal vengo può dare in là al Holy Festival in Indie per festeggiare l'inizio del primavera! Ma... Dighi! Sì, ho capito! Non tu vuoi essere sporchiato di polvere colorato sul tuo bielo per il fof! Oh! C'è roba nonis di te! Mamma, frutti! Sì! 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 Sì!